Penultimo atto dei playoff di Serie C. A giocarsi l'ultimo posto per la prossima Serie B saranno Avellino, Benevento, Vicenza e Carrarese. Un poker di squadre attrezzate e costruite per puntare a questo obiettivo fin dall'inizio del campionato. L'Avellino partiva ai nastri di partenza come favorita assoluta per la vittoria dei playoff e resta la candidata numero uno nonostante l'accoppiamento scomodo con il Vicenza, forse la squadra attualmente più in forma dell'intera competizione. Non si può parlare di finale anticipata perché anche Carrarese e soprattutto Benevento, favorito nel doppio confronto con i Toscani, si giocheranno le loro carte fino all'ultimo. La sensazione è che però la squadra che uscirà vincitrice dallo scontro tra Avellino e Vicenza reciterà il ruolo della favorita anche nel doppio scontro finale in programma per giugno. Si parte oggi con il primo round delle due semifinali. Avellino e Carrarese giocheranno la gara d'andata in casa, come stabilito dal sorteggio, poi i ritorni a Vicenza e Benevento in programma il 2 giugno. Fischio d'inizio fissato alle 21 per entrambi i match, con diretta in chiaro su Rayplay Sport per la sfida tra Campani e Veneti.